Le voci del coro polifonico Siro Mauro di Ponte in Valtellina, protagoniste dell'emozionante concerto Natale Incanto nell'Aulamagna dell'Ospedale di Sondrio per iniziativa di AVO, Associazione Volontari Ospedalieri di Valtellina e Valchiavenna. Nato dall'insegnamento del grande maestro e organista Siro Mauro, di cui l'attuale direttore è stato allievo, il coro ha conosciuto varie trasformazioni fino alla composizione attuale di 33 elementi. Nel 2006 il coro si ricompone in un certo modo fino al 2013, quando poi il 2013 si costituisce in associazione, Associazione Coro Polifonico Siro Mauro, che vede ancora il maestro Massimiliano a dirigere. Il nostro repertorio è un repertorio che spaccia dal classico e profano, però un profano d'autore che non è praticamente un canto popolare, altro repertorio è il sacro, noi andiamo a spaziarci sul sacro, con musiche che vanno da Wack a Mozart per arrivare a autori contemporanei. Non siamo l'associazione del fare, ma quella dell'esserci, perché in fondo il fare, molte associazioni fanno molte cose proprio, diremmo così, pratiche. Per noi invece è un ascolto, è un vedere, è un riscoprire nelle persone l'aspetto più intimo, quasi quasi per dire alle persone che vivono un momento di difficoltà, soprattutto chi vive in un ambiente ospedaliero, siamo anche nelle case di riposo, il farle dire, il farle capire che uno spizzico di cielo c'è anche per loro.